Fermi lì che l'ho recuperato, uno dei case più interessanti di questo mercato, un qualità prezzo assurdo. Sono ragazzi riuscito a mettere finalmente le mani sulla linea XT di Phanteks. Ve l'ho già parlato in qualche video, sono dei case con un qualità prezzo assurdo. Non hanno senso per questo mercato, offrono letteralmente le feature di case top di gamma a meno di 90€. Vado dritto, 84,90€ per questa versione, 79,90€ invece per quelle classi. Assembliamoci una build. Ok, ho recuperato una scheda madre dalla mia test bench per andare un pochettino più veloci su questo passaggio. 14600K, SSD 4.0 e la scheda madre è una Z790A Strix. È molto carina, bianca argentata. Ci mettiamo le RAM. 1.2, 1.2. Ok, montiamo il dissipatore. Per questo abbiamo la linea Glacier, Glacier 1 D30 di Phanteks. Abbiamo proprio la possibilità di provarlo oggi insieme e vediamo come se la cava. Devo dire, la linea di Phanteks mi ha sempre molto interessato e sono contento di poterla provare. Più che altro perché sono stati tra i primi, se non proprio i primi, a fare le ventole da 30 mm. Leggermente più spesse ma muovono molta, molta più aria. E ovviamente il case è pensato per supportare un radiatore con questa configurazione. Ok, ventole. Bravi, tutto bello incartato. Un po' di accessori. Hanno addirittura slivato i cavi di connessione. È proprio un ottimo punto di partenza per capire la qualità del prodotto. Penso sia il pacco di sistemi di montaggio più grosso che abbia mai visto in vita mia. Oh, bello imballato. Esteticamente semplice. Niente LCD, niente RGB, pazzi. Design minimal, molto bello. La serietà di un prodotto la capisci dal numero di accessori che includono. Per esempio qui abbiamo una piccola alimentazioncina per le ventole con il SATA. Plitter vari. Dei raccogli tubi per appunto i tubi del radiatore. E soprattutto, cosa che apprezzo sempre nei brand un po' più premium, le viti sono separate e non buttate tutte in una busta. Molto, molto bene. Belle. No, vabbè. Bellissime. Ragazzi, ma è la prima volta in anni che mi emoziono guardando una ventola dalle a 12x25 di Noctua. Ma sono enormi. Wow. Cioè, allora, vabbè, queste qui sono da 27, quindi si percepisce di meno. Ma qua ci sono 3 mm di differenza. Ma in generale, guardate il corpo. Quanto è più figo. Premium. Mamma mia. Ma poi... Wow. Signal input corner. Qua abbiamo degli attacchi per daisy chain. Cioè, pulitissima la ventola senza cavi così. Che bella. È la prima ventola che mi faccia dire wow. Quindi, come potete vedere, questi piccoli connettori permettono di attaccare le ventole in questa zona qui dietro, tra di loro, e creare una daisy chain senza cavi. Pulitissima. Veramente interessante. Adesso lo facciamo. Questo è poi il cavo, oltretutto slivato, nylon, molto molto carino esteticamente, che farà da introduzione per, appunto, l'input e l'output che arrivino ed escano. Genuinamente molto interessante. Vediamo se è intuitivo anche, però. Quindi, qui abbiamo la porta in e ci andiamo a connettere questo nell'angolo. Quindi ci serve soltanto di far uscire un cavo. In questo caso il nostro dissipatore sarà così. Quindi così. Quindi il cavo deve uscire da qui. Quindi una volta che noi abbiamo la nostra prima ventola allineata, ne prendiamo un'altra così. semplicemente la posizioniamo di fianco e poi utilizzando il bridge, questo qui, andiamo a connetterle tra la zona out e la zona in. Così. Ok. E sono connesse, pronte all'uso. Facile, facile. Molto bello. Veramente una daisy chain carina. E stessa cosa poi da questo lato con, ovviamente, l'ultima ventola. Sempre bella cicciotta spessa. Non di così, ma dalla parte in. Così. Sono anche facili da allineare, non puoi sbagliare. Poi un altro bridge qua. Nuovamente si va a spingere da questo lato e poi a spingere da questo. E le ventole sono connesse tra di loro. Uno dei sistemi di daisy chain più semplici, efficaci e al tempo stesso strutturalmente validi. Perché c'è anche una seconda piccola opzione qui sotto che effettivamente ci sia. Bravi, bravi, molto bravi. Mi sta piacendo. E poi, nuovamente, andiamo a chiudere da questo lato. Allineandole meglio, magari. Stragrosso. Madonna, ragazzi. È enorme. Pazzesco. Wow. Non oso immaginare il remix che farete con la mia voce mentre dico queste cose. Per favore, siate clementi. Fateli bene i meme. Che siano croccanti, fritti e distrutti. Ditemi che la vedete anche voi la faccina con la bocca aperta gigante. Ok. Qui abbiamo montato i quattro piedini. Adesso semplicemente ci si va ad avvitare sopra. Classico sistema di montaggio con le quattro testine. Molto bene perché è uno dei più semplici e apprezzabili. Specialmente su Intel. Ok. Adesso ci sono le quattro viti così. Questa è l'ultima. Ok. Andiamo a metterlo nel case. Ok. Passiamo al case. Packaging molto semplice. Devo fargli complimenti perché hanno messo questa protezione di cartone che poi ovviamente al suo interno ha la plastica. Però effettivamente non è quel polistirolo brutto inutile che si rompe sempre. Questa plastica poliuretano qua, gomma come lo potete chiamare, secondo me è molto più interessante. E poi. E qui abbiamo il nostro XT View. Questa è la versione appunto dedicata principalmente all'esposizione delle componenti ma che mantiene tutti gli aspetti positivi degli altri XT Pro Ultra. Dedicandosi ovviamente un po' di più, come dicevo, a questa visuale a tre quarti. Stile acquario, come vi piace chiamarla. L'unica cosa che non mi piace è che hanno montato le ventole in estrazione qua, per una questione estetica ovviamente. Ma in realtà le mettiamo in immissione perché solo delle reverse dovrebbero stare qui. Insomma è la parte di immissione principale dell'aria, è importante metterla bene. Anche perché sennò abbiamo una totale estrazione, non c'è ingresso. Ok, smontiamo un po' tutto. Ok, quindi per smontarlo tutto molto semplice. Si stacca la parte di vetro frontale, la paratia posteriore e si inizia a operare. Come dicevo prima, prima di fare qualsiasi cosa, giriamo queste ventole. Un modo molto semplice per vedere se delle ventole siano reverse è semplicemente, se proprio non siete sicuri in nessun modo, prendere un'altra ventola, la mettete vicina e se le pale sono nella stessa direzione, e in questo caso lo sono, beh allora non è una reverse. Semplicemente le reverse hanno le pale invertite qua. E le giriamo. Ok, e così è pronto all'uso. Alimentatore. Per questa volta utilizziamo la loro piattaforma AMPGH. Sono appena usciti proprio questo mese a luglio e sono una versione rinnovata della linea AMP, che però aggiunge gli standard più recenti, ATX 3.1 e PCIe Gen 5.1. Quindi avete massimo supporto e soprattutto gli standard più recenti, quelli dopo la scoperta, insomma, che i cavi potessero prendere fuoco sulle 4090. Tutto in sicurezza, interamente modulare, ho cercato informazioni sulla piattaforma per assicurarmi che fosse buona, ovviamente, prima di montarlo. Non sono riuscito a trovare delle recensioni approfondite, perché effettivamente ha una settimana di vita al momento in cui lo sto montando in questo PC, è incredibile che ce l'abbia qui, però su un post di Reddit sembra essere fatto da un OM minore cinese che si chiama Helly. Proprio tipo Hell, però Helly, nome particolare. Ad ogni modo, secondo la logica di questo utente Reddit, la piattaforma non dovrebbe essere peggiore dell'AMP, che comunque era una piattaforma buona. Quindi di per sé nessun problema in particolare. L'andiamo a montare, esiste in taglio da 750, 850, 1000 Watt ed è gold. Noi abbiamo la versione bianca. Andiamo a metterlo nel PC. Mettiamo dentro la scheda madre. Devo essere onesto, è uno dei case ATX economici, tra virgolette, più spazioso che abbia mai utilizzato. Guardate, nonostante il radiatore da 27 e le ventole da 30 mm, c'è tantissimo spazio in cui lavorare. Veramente fantastico. Adesso prima faccio passare i cavi della CPU e poi blocchiamo tutto. Solite viti. E via così per 10 volte. Anche nei case larghi, ragazzi, fate sempre passare prima i cavi della CPU, perché dopo vi distruggete le mani. E adesso solleviamo il nostro questione. Allora, devo dire, è una delle prime volte da tanto tempo in cui trovo delle viti con una tolleranza così perfetta. Non ballano dentro e entrano precise, perfette, meravigliose, non raschiano un minimo. Belle, piacevoli, super chill queste viti. Qui lo dico e qui lo nego, questo potrebbe essere uno dei miei case preferiti di sempre. Almeno per la fascia non spettacolare, cioè non tipo un height. Però, raga, veramente gran case. Mi sto divertendo molto. Ad oggi non credo di aver mai provato così tanti prodotti Fantex tutti quanti insieme. Ma devo dire, è un qualcosa a cui dobbiamo assolutamente porre rimedio. Perché la qualità costruttiva è quello che ti aspetteresti da un Corsair, visti i loro prezzi. Ma con soluzioni da lì a lì, praticamente. Da capofila del mercato, quindi. E con prezzi che sì, sono premium, però effettivamente parlando non lo sono eccessivamente. Il che è molto bello. Bravi, bravi. Ok, ho fatto passare i cavi per alimentare la scheda madre, la CPU. Ho fatto passare un pochettino tutti quanti i cavi. Devo dire, case congegnato veramente benissimo. Soprattutto una cosa che mi è piaciuta molto, qui dietro. Può magari risultare un po' complesso con inesperienza. Ma hanno fatto praticamente una lunghissima desi chain di cavi, cavetti che passano per il loro sistema di RGB. E che poi, in questo caso, ancoriamo nella parte frontale alla scheda madre. Però effettivamente, tutto questo sistema di cavetti che poi sistemerò, rende inutile la necessità di un hub. Oltre a questo, molti dei cavi sono piatti. Vedete? Passano piatti qui dietro. E quindi affievoliscono quella che è la dimensione del passaggio, appunto, di tutti questi cavi in tutta questa zona qui. L'unica cosa che gli si potrebbe condannare è che qui non ci sono delle ghiere di plastica, delle guaine. Quindi di per sé non rimangono scoperti i cavi, ma è un problema molto secondario. Adesso ci montiamo una scheda video di dimensioni dignitose. Ci mettiamo questa che assolutamente riempie bene il case. Ci permette anche di vedere il supporto elevato. Questa è una 4080 Super, quindi di per sé molto ampia. Molto bello perché ha il passaggio del cavo qua, da sotto. Ok, facciamo il primo avvio insieme. Ok, ci sono tutte tranne le ventole superiori. Oh, oltretutto ha un mini barrette RGB qui. C'è proprio un intero sistema RGB. Mancano le ventole del dissipatore, probabilmente è un piccolo errore. Ok, adesso ci sono anche le ventole del dissipatore. Devo dire, wow. Belle le ventole lì. Bella la scheda video. Bello il waterblock. Colpo d'occhio veramente incredibile. Non mi ero neanche accorto montandole che queste ventole fossero RGB. Veramente, veramente belle. Ora lo testiamo e vi dico un ultimo paio di cose. Allora, Fantex. Ragazzi, devo dire, era da tempo che non recensiva un prodotto che fondamentalmente non avesse difetti gravi. Si è emozionato. Ha iniziato a far fare le ventole più forti appena ho detto questa cosa. Ehi, tranquillo, hai vinto la gara. Allora, per quanto riguarda questo case, l'XT View appartiene a una linea di Fantex di cui vi ho già parlato abbondantemente anche in altri contenuti. Ma mi ripeto un attimo. Sono gli XT, XT Pro Ultra, XT View. Ci sono varie versioni. Un case veramente da guerra da parte di Fantex, che magari va a risparmiare su qualche piccolo dettaglio che però è meno significativo nell'esperienza generale, dando fuori un case che è veramente super super figo. Supporto da 360 mm nella parte superiore. Possono entrare schede video veramente gigantesche. Per esempio, in questo XT View ci entrerebbe anche una 4090 Rockstrix senza problemi. Abbiamo praticamente tutto quello che ci serve. Qui sotto c'è ancora uno spazio gigantesco e a questo ci arriviamo tra poco. Possibilità di installare tre ventole qua nel lato. Ragazzi, stiamo parlando di un case che fondamentalmente ha tutti i supporti che vi possano servire. A meno che non vogliate fare un custom loop. In quel caso potrebbe essere un po' più complicato. Ma di questo peccano tanti i case in sto mercato. Ad ogni modo, per 85€ Fantex secondo me è un'offerta veramente molto valida. Partiamo però dal dissipatore, Glacier D30. Questo è un dissipatore di cui, devo dire, sono molto soddisfatto sotto diversi punti di vista. Prima di tutto, le ventole. Devo dire che sono un insieme veramente ben congegnato. Qua si vede che c'è dietro del lavoro ben ragionato. Daisy chain totale, veramente neanche si nota che siano collegate. Da cui partono soltanto due cavi da una singola ventola, con attacco magnetico che le tiene strettissime. Sono ventole da 30 mm, quindi di per sé hanno anche la capacità di muovere più aria, generare più pressione, rispetto alle classiche ventole da 25 o da 27 a cui siamo abituati. E di questo ci sono già svariati video su internet che attestino il beneficio effettivo. Hanno anche gli RGB, ma devo dire che sono un po' stealth, un po' nascosti. Molto, molto minimal. Cioè, non sono fastidiosamente RGB anche in questa combinazione che ho lasciato della giostra. Quindi di per sé molto bello. Per quanto riguarda il rumore, devo dire che come dissipatore se la cava benissimo. Anzi, purtroppo è stato sovrastato da un intruso. Queste sono le prestazioni in termini di rumore, in idle, in gioco e con un carico estremo a 200 watt o cct in tortura. Nella parte finale, quella con il carico estremo, potreste aver sentito un rumore molto forte, quasi fastidioso. In realtà, ragazzi, non è il dissipatore. Sono le ventole del case che purtroppo, se lasciate andare al 100%, o comunque lasciate inseguire quello che è il carico del processore, purtroppo diventano molto rumorose. È un peccato, ma al tempo stesso c'è da dire una cosa molto importante. Quanti di voi fanno andare realmente la CPU al 100%? Oppure lasciano le ventole non moderate? Oppure in generale comprano un case del genere non per un PC da gaming? Perché se blocchiamo, per esempio, l'evento del case, questa è la situazione di rumore. Sentiamo anche un piccolo confronto tra prima e dopo con le ventole del case al 100% invece ferme. E adesso invece il rumore di un facocero africano. Ok, questo non c'entrava, però mi faceva ridere. Ad ogni modo, la mia opinione è che se questo case lo utilizzate per il contesto del gaming, o se il vostro carico di produttività non è tale da mandare al 100% un processore da 200 W, in modo che l'evento del case debbano inseguirlo, dandogli respiro, per sé non avrete particolari problemi. In alternativa, si potrebbe creare una seconda emissione utilizzando la parte inferiore della scheda video, andando più che altro a privilegiare lei, ma comunque creando del flusso d'aria. Anche perché c'è da dire che questo case ha una zona sottostante che se non vengono utilizzati HDD o SSD SATA, effettivamente rimane vuota. È letteralmente una stanza, un monolocale a Milano da 600€. E quindi, wow, cioè potete metterci delle ventole e farle respirare effettivamente, tranne quella che magari sarà sopra l'alimentatore, quella pescherà un po' meno aria. Sicuramente il mio consiglio più importante è quello di girare le ventole, come ho fatto io, in maniera da creare un'immissione, a meno che appunto non girate tre ventole qua. E parlando di questa zona, devo dire, c'è questa striscia LED integrata nel case, che è molto carina. Minimal, illumina il resto del case, aiuta appunto a creare una vivacità, proprio una vitalità del case, con un colorino in più. È ovviamente regolabile e se non vi piace, semplicemente la spegnete. Oltretutto, utilizza i cavi posteriori, quelli di RGB, sempre delle ventole e del case, per appunto la sincronizzazione RGB con la scheda madre o con l'hub che vogliate. Quindi di per sé, fantastico. Per quanto riguarda le temperature del dissipatore, se la cava, benissimo. Non che mi aspettassi diversamente, si sta confrontando con un 14600K, comunque che è un processore notevolmente più energivoro anche rispetto alla media dei top di gamma di AMD. Quindi di per sé, se regge questo, potete metterci su anche magari un 7950X3D e non avete problemi. o un 7800X3D, zero, zero problemi. Anche magari con tagli più piccoli come 280 o 240. Allora, per quanto riguarda il gaming, neanche a parlarne. Con 30 gradi di ambientale, in tutti i nostri test, effettivamente abbiamo ammirato un processore che rimane sotto i 70 gradi, senza nessun problema. Il rumore, precedentemente l'avete sentito, è pressoché impercettibile, molto piacevole. Il classer se la cava benissimo. Per quanto riguarda invece situazioni più gravose, come quella che abbiamo visto prima in OCCT, rimaniamo abbondantemente sotto i 90 gradi. Però dovete considerare che l'ambientale comunque è nuovamente di 30. Quindi di per sé, in una situazione con un condizionatore o, per esempio, anche semplicemente d'inverno, chialeranno anche le temperature corrispettive intorno agli 80 o 70, anche in base alla situazione. Quindi di per sé, ottimo lavoro, considerato anche che la rumorosità non è assolutamente fastidiosa. Ovviamente, ragazzi, tutti i prodotti hanno almeno uno o due difettucci. In questo caso, devo essere onesto, abbastanza minori. Ovvero, qui, nella parte in cui passeranno i vostri cavi, non ci sono delle guaine di gomma. Questa è una cosa un po' lacunosa, però al tempo stesso, devo essere onesto, non ha rovinato in nessun modo l'estetica finale di questa build full white. Quindi di per sé va un po' a gusti. Se per voi è vitale avere delle guaine che separino le due zone frontale e posteriore, allora potreste optare per un altro case. Ma se non ve ne frega niente, invece volete un case con un'ottima qualità, ad un prezzo veramente invidiabile, allora questo è il vostro candidato. Per quanto riguarda le ventole, fa utilizzo di attacchi di RGB, che sono diversi da quelli canonici che hanno tutte quante le ventole. Più che altro, vi spiego qual è la situazione. Se rimanete all'interno dell'ecosistema di Phanteks, quindi per esempio con il Glacier qua sopra, o altri comunque prodotti di Phanteks di questa generazione, più il case, di per sé non noterete grandi problemi. Perché le ventole, il dissipatore, tutti quanti, si connettono tra di loro in serie, e senza nessun problema, con un solo attacco per gli RGB e tre per le ventole PWM, controllate tutto. Veramente zero, zero problemi. Dissipatore e sei ventole, più la striscia di RGB lì sotto. Se fate un mischione di brand, magari con ventole di un brand, dissipatore di Phanteks e tutto quanto, il di RGB può essere un pochettino più fastidioso, ma semplicemente vorrebbe dire incorrere nella necessità di utilizzare più porte a RGB e lo stesso numero di porte PWM alla fine, in base alla situazione. Quindi per sé, problema relativo. C'è a chi dà fastidio avere l'attacco proprietario, in questo caso per me non ha influito negativamente per niente nella esperienza d'uso, quindi va benissimo, almeno per quello che è stato il mio assemblaggio. La parte di input-output risulta un po' scarna e al tempo stesso troppo popolata. Sopra troviamo quattro pulsanti, avvio, reset e due per il controllo degli RGB, accompagnati da una USB-A e da una USB-C. Diciamo che il tasto reset personalmente non lo trovo utile, è una mia opinione personale, però effettivamente negli ultimi due o tre anni non mi sono mai trovato ad avere la necessità di utilizzare il tasto reset, quanto più il tasto di alimentazione. E gli altri due controllano gli RGB. Anche in questo caso ho dato tutto il controllo alla scheda madre, adesso ho lasciato la modalità giostra solo come showcase, però di per sé controllando la scheda madre quei due tasti mi risultano perfettamente inutili. Avrei preferito almeno due USB-A e la USB-C che già ci accompagna, però per il resto va un pochettino in base alle necessità. C'è chi non lo sentirà limitante, personalmente apprezzo molto gli input-output ricchi, con almeno due, tre USB-A e magari uno o due USB-C. Mi aiutano particolarmente nel mio lavoro. Ultima cosa, qualora vi sia piaciuto tutto quello che questo case di Fantex abbia da offrire, ma non vi piace il design, sappiate che la linea XT ha anche dei case normali, tipo quella scena di Full Metal Jacket e la tua famiglia ha anche figli normali? Sì, ce l'hanno. L'XT Pro Ultra effettivamente è un case che fondamentalmente mantiene la classica forma della TX, con tre ventole frontali e una in estrazione. Dovrebbe quindi avere anche una rumorosità leggermente migliore, visto che può sfruttare una ventola frontale e semplificare un pochettino il transito dell'aria, e di per sé costa anche 5€ in meno. Passa da 84,90€ a 79,90€. Entrambi sono disponibili in colorazione bianca e nera, e dispongono di esattamente le stesse feature, tranne una ventola in più appunto della versione XT Pro. Personalmente apprezzo di più l'altro, ma per la formula canonica questo è un pochettino più da showcase, quindi se avete tante componenti o una build optigamma come quella che ho appena assemblato, potete valutarlo per, insomma, mostrarla alla sta grande. Se volete un consiglio estetico, prendete delle ventole reverse da mettere al posto di quelle, semplicemente per mantenerle dritte e aumentare la parte estetica e il suo impatto finale. Per il resto, ragazzi, questo case costa veramente troppo poco per quello che offre nel mercato attuale, gli altri brand, una roba del genere, ve la posizionano intorno ai 100, 120, 130€, vista la senza ID, cool praticamente non ha concorrenza, e il numero di feature che offre mi ha veramente genuinamente convinto. Fantex veramente bravi, soltanto qualche difettuccio, io i link vi li lascio giù in descrizione, da voi vorrei un like, un commento, un'iscrizione, se questo video vi è stato utile. Noi ci vediamo al prossimo, vi è stati su un board in tech. Sanusa.